Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Dopo l'incendio alla Rimel di Casette Verdini di Pollenza la sera del 5 dicembre, l'azienda sanitaria territoriale della provincia di Macerata ha effettuato nuove analisi, questa volta su animali di autoconsumo. Dai risultati emerge una non conformità riferita alle emissioni di diossine di policlorobifenili, effettuate in 3 campioni su 4 di uova di galline, prelevate lo scorso 9 gennaio in contrada Piane di Chienti, pressa poco ad un chilometro dalla Rimel. C'è ancora preoccupazione e il sindaco invita a seguire le raccomandazioni. L'azienda sanitaria territoriale qui di Macerata ha dato questa indicazione, questa raccomandazione per il momento nel raggio di un chilometro dall'azienda dove questa settimana continueranno i campionamenti di uova a seguito degli sforamenti registrati su 3 campioni di 4 prelevati appunto a poca distanza lì dal luogo dell'incendio. I campionamenti che sono iniziati in data 29 dicembre sono poi proseguiti e gli sforamenti si sono registrati nei campioni prelevati il 9 di gennaio. Come avevamo detto sin dal primo momento, lo ricordo, questi tipi di campionamenti sui prodotti animali sarebbero stati fatti dopo 20-25 giorni almeno dalla data dell'incendio proprio perché gli animali sono dei bioaccumulatori e quindi hanno bisogno di tempo per accumulare le sostanze negative e quindi poi c'è bisogno di tempo prima che queste sostanze si possano riscontrare nei loro prodotti. Ovviamente eravamo tutti più contenti se anche i risultati di questi campioni di uova avessero dato risultati conformi esattamente come è stato per l'acqua, come è stato per i terreni, come è stato per gli ortaggi, invece qui abbiamo registrato le non conformità. Ecco il perché. Ora si farà un lavoro più stringente prima nel raggio di un chilometro, poi se, come speriamo, i risultati saranno confortanti, verranno ripetuti ancora e poi ci si fermerà, altrimenti si allargherà via via il raggio per capire l'estensione delle negatività sprigionate dall'incendio. Ecco la popolazione, possiamo rassicurarla, in questo periodo comunque gli animali non sono stati quelli usati per l'alimentazione. Voi avevate già allertato tutte le aziende che si sono premurate di non vendere e mettere in commercio i prodotti. Noi avevamo allertato tutti quanti, lì non abbiamo presenza di aziende, abbiamo più che altro tutti privati con animali da cortile per uso proprio. Avevamo avvisato nell'immediato dopo incendio con ordinanza, avevamo proibito l'uso per fini alimentari di questi animali e dei loro prodotti per almeno dieci giorni. Mi risulta anche, lo dico, che diversi di questi non hanno ottemperato l'ordinanza e quindi oggi è anche più difficile capire il grado di correlazione tra l'incendio e i valori negativi registrati.